Attorno alle riforme si gioca stavolta una partita davvero serrata. Il dialogo fra maggioranza e opposizione entra nel vivo a pochi giorni dalla riapertura del Senato, che sarà il teatro del confronto, e che le intenzioni sembrino serie lo dimostrano alcuni segnali, come l'ottimismo di Silvio Berlusconi e la dura reazione del sempre moderato vice segretario del PD Enrico Letta alle ultime dichiarazioni di Di Pietro. E' il momento giusto per fare le riforme, avrebbe detto il Presidente del Consiglio, o tutti approfittiamo di questa opportunità, o il Paese non vedrà mai quei cambiamenti necessari per il suo rilancio. Ora, avrebbe aggiunto Berlusconi, c'è solo una forza politica che cerca di alzare il polverone e va isolata. Il riferimento è evidentemente all'Italia dei valori, il cui leader Di Pietro, a proposito della proposta del Ministro Brunetta di cambiare il primo articolo della Costituzione, ha parlato di un manipolo di golpisti che cavalca alle forze incaute dichiarazioni del Capo dello Stato. E oltre all'ennesimo attacco al Colle, Di Pietro ha difeso De Magistris, che vedrebbe bene Berlusconi in esilio. Dal vice segretario del PD Enrico Letta, la netta stroncatura, Di Pietro e De Magistris, ha scritto nero su bianco in una nota, portano il centro-sinistra nell'abisso e sono i migliori alleati di Berlusconi. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Buonaiuti, ricorda la disponibilità, in tema di riforme, a lavorare su un testo che viene dall'opposizione, ma stigmatizza gli attacchi di Di Pietro, a fronte dei quali non vede ancora risposte concrete dalla sinistra riformista. Per il momento comunque PDL e PD sono uniti nella perplessità sull'idea della Lega di convocare una convenzione per discutere di riforme, rilanciata però dal ministro Calderoli. Iana Gagliardi, Sky TG24